buonasera a tutti oggi faremo il bollettone della quindicesima giornata della serie a ok iniziamo con empoli cremonese over un e mezzo mentre napoli udinese un bel 1 san badore a 12 bologna sassuolo under tre e mezzo atalanta inter goal monza salernitana mettiamo due più over un e mezzo roma torino uno per una spezia over due e mezzo millan fiorentina goal e juve lazio goal questi saranno i probabili risultati che potrebbero uscire adesso vi saluto ho fatto il bollettone se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace e vi raccomando iscrivetevi al canale ciao a tutti buona divertimento ciao